Il primo giocatore è qua, mettiamo il blu, il secondo giocatore è di là, lo stacco, il terzo giocatore è qui ma non si vede, mettiamo la testa A posto I baffi ci rimettiamo a questo, no? Sì Il tavolo lo mettiamo qui All'inizio non si riesce un cazzo, però qualcosa esce Ecco un altro giocatore l'ho messo qua giù Un cappello un po' Allora Una bottiglia, mettiamo la bottiglia Che cazzo ci serve La bottiglia è semplice Capito? Qui ci facciamo uno che è col naso, sempre il profilo modiglianesco Adesso staccamo le caporocce Un attaccio Un attaccio Un attaccio qui c'è un'altra testa, un altro cappello, il naso, un altro giocatore, gente al tavolo, capito, quanto è brutto questo, allora dobbiamo imparare una cosa fondamentale, avere un pennello più intelligente, stacchiamo le figure, capito, no col cacchio qua ne vedi qua, fa murmurale, no col cacchio, attavia, cosa ci cacchiamo? Lo vedi? Sì Ok? Sì Inizia a capire? Certo, certo Fondamentale questo E potete aiutarlo o no?